Quello che sto sempre cercando di fare è cercare di dare proprio al cliente esattamente ciò che lui desidera. Sono Gianluca Benna, opero in Banca Mediolanum da 25 anni, ho aperto un nuovo ufficio in Val Badia e il mio obiettivo è quello di sviluppare una zona che per me è sempre stata il mio sogno e diventare un punto di riferimento in questa vallata meravigliosa che sono tra le mie montagne. La sfida è quello che io porto nel mio lavoro da quello che è il mio mondo personale, ovvero io non devo dire a un cliente la persona che non sono, ma cercare di mettermi diciamo in discussione. Quindi sarà il cliente dopo ad accettarmi e a capire se quello che gli sto dicendo corrisponde alla verità e sarà dopo il tempo a far valutare se quello che ho detto era la cosa corretta. Non dico di essere né più bravo né meno bravo, di tanti miei colleghi che ritengo forse essere anche più bravi, ma sicuramente è una persona molto corretta che è onesta, è sincera e cerca di dare un'indicazione su quelle che penso siano le cose migliori. Oggi ritengo che è nei momenti di grossa difficoltà, parliamo ad esempio del 2009, che abbiamo imparato tantissimo, momenti in cui la gente aveva paura e grazie anche allo spirito del nostro presidente dove tutti avevamo paura e lui in una convention mi ricordo aveva detto io non ho paura, siamo partiti e siamo riusciti a dimostrare, e questo diciamo è il nostro filo conduttore nella nostra attività lavorativa, che dimostra ai clienti che proprio nei momenti di ribasso, nei momenti di tensione, che si possono ottenere dei risultati. È proprio questo il momento migliore per poter seminare, per poter fare vedere nel tempo dei risultati. Dopo penso sempre che sia importante la correttezza con cui noi diciamo le cose, senza dover dare delle aspettative che non siamo in grado di rispettare, ma far vedere che cosa possiamo fare nel tempo e che cosa dobbiamo fare, realmente condurli per dare una sicurezza. Per portare un cliente sul podio, secondo me bisogna avere alle spalle uno staff, un team, e penso che in una banca medio-langue di avere quel team che ci possa essere. Io ho avuto grossissimo supporto dallo staff, soprattutto negli ultimi anni, di questa nuova struttura che è il Wealth Management, che mi ha permesso di acquisire un determinato tipo di clientela, di dimostrare a questa clientela quello che si poteva fare e anche dove si poteva arrivare. La mia passione per lo sci, come dicevo, è nata da quando ero bambino, che mi hanno indirizzato diciamo al mondo dell'agonismo, quindi come tutti i bambini andavano nei sci club, anch'io mi ero appassionato al mondo dell'agonismo e una volta che inizi a vincere qualche gara, chiaramente c'è anche di fare sempre di più, poi vai a fare i giochi della gioventù, le gare sono sempre più importanti, le fasi nazionali, eccetera, e quindi ti entusiasmi e vuoi arrivare sempre più insomma. E questo è stato anche il motivo della mia vita, cercare di essere, provare a eccellere in quello che sto facendo. Stavo per entrare magari anche in squadra, poi ho avuto un incidente, una discesa libera, quindi mi sono fermato e i miei genitori mi hanno incentivato ad andare all'università piuttosto che quando scio, provo una sensazione di libertà, è un modo per evadere da quello che sono le mie tensioni, il mio lavoro, il nostro lavoro è sicuramente molto pesante, impegnativo, e quando scio mi trovo, riesco ad essere completamente libero, riesco a pensare molto di più alle cose che devo fare, e magari se ci sono delle tensioni, dei problemi, cerco di trovare in questi momenti la mia valvola di spodo, ma anche da affrontarla in una maniera più costruttiva.